Ciao ragazzi da Vittorio, oggi è un giorno speciale e non perché è San Valentino, anche quello è una data importante, ma oggi è una data importante perché il mio canale festeggia un anno, eravamo partiti così. Brutte notizie in casa Lazio, non solo per la sconfitta di giovedì sera contro Siviglia, ma anche perché si allunga la lista degli infortunati. In Europa League Inzaghi ha dovuto sostituire dopo appena 56 minuti tre giocatori per infortunio, Luis Alberto, Bastos e Parolo. Tutti e tre probabilmente non saranno disponibili per la trasferta insidiosissima contro Genoa, trasferta particolarmente insidiosa per la Lazio perché negli anni scorsi ha quasi sempre perso. Il primo video del canale era un post Lazio-Siviglia 0-1, Europa League, l'inizio della fine dell'avventura in Europa League. La Lazio che perse sia l'andata che al ritorno in Europa League contro Siviglia, una Lazio decimata da infortuni che perse anche a Genoa. Se sei su questo canale è perché sei un tifoso della Lazio. E allora perché non esternare la tua lazialità nel modo migliore comprando prodotti ufficiali della Lazio? Io, grazie ad Amazon, ti ho reso il compito molto più facile. Basta andare nel link in descrizione, questo qua, cliccare e si aprirà la pagina dove io ti consiglio tutti i prodotti migliori targati Lazio. Sono quasi tutti direttamente venduti dalla Macron, hanno tutti la spedizione gratuita e quindi paghi solo il materiale che vai a comprare. Io ti ho scelto questi prodotti, Amazon te li garantisce, se sei un vero laziale vai e colpisci. Non so se vi ricordate ma a Genoa la Lazio fu in totale emergenza, tant'è che Bruno Giordao fece il suo esordio in Serie A. Insomma era un momento bruttissimo, ma nonostante questo sono partito con il mio canale YouTube per parlare di Lazio e in calcio in generale. Un anno dopo direi che le cose sono andate molto meglio parlando di Lazio e siamo passati da 0 iscritti a 2100 circa iscritti. Un risultato fantastico. Io credo di aver migliorato la qualità del canale, audio, video e vi ringrazio incredibilmente per il vostro supporto, ma questo non vuol dire che finiamo qua. Questo è solo il primo passo. Primo anno si festeggia e poi si guarda in avanti per migliorare sempre. La mission rimane sempre quella. Quella di diventare il canale YouTube di riferimento per i laziali che non vogliono vedere quello che spacca le tastiere o come si butta i secchi dell'immondizia eccetera e clive super sfogo per fare traffico. No, quel traffico a me non mi interessa. Io sono qui per dare la qualità. Parlare di Lazio in modo obiettivo, parlare di Lazio in modo intelligente, nel modo di chi conosce il calcio può fare. Non super sfogo Sagnam perché fare 30.000-100.000 iscritti o visualizzazioni così. No, è ridicolo, io non lo faccio. E mi fa molto piacere che voi vi siete iscritti a questo canale e avete capito il mio obiettivo. Speriamo di crescere ancora di più, lo faremo sicuramente. Io cercherò sempre di dare il massimo, ma senza di voi non sarei qui adesso e quindi vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto. Ma questo non è l'addio. è solo festeggiamo il primo anno del canale e guardiamo avanti un po' come fa la Lazio. L'obiettivo è a domenica prossima per la Lazio. Noi l'obiettivo è già da oggi fare ancora meglio di ieri. Ciao, grazie. Noi l'obiettivo è già da oggi. Noi l'obiettivo è già da oggi. Noi l'obiettivo è già da oggi. Grazie a tutti.